Ragazzi, è stato l'ora in Vado, però dopo 90 minuti accende agli sparenci nazionali. Si poteva fare di più oppure va bene così al termine della stagione? Sicuramente abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, anzi siamo andati ben oltre quello che erano le aspettative inizio anno. La società ci aveva chiesto di fare un buon campionato, quello che abbiamo fatto è un ottimo campionato e questo è il coronamento del lavoro di una stagione importante da parte di tutti, società, direttore, ganatore, giocatore. È stata veramente una grande annata e credo che questo sia il giusto premio e il giusto riconoscimento per quello che abbiamo fatto. Aurelio, adesso che siamo a Vettero giunti agli sparenci nazionali? Tanta roba, ce la giochiamo perché come ha detto Nico non ci siamo prefissi sia noi che la società in primis. nessun obiettivo, nel senso, il Presidente aveva detto di fare un buon campionato, un campionato dignitoso. Alla fine eravamo lì, siamo riusciti ad ottenere il prof, con una buonissima squadra, che faccio anche i complimenti, che è veramente una buona squadra. Quindi ancora ce la giochiamo, vedremo con chi, adesso ad ora non lo so, però penso, una volta che l'abbiamo raggiunto, di fare una bella prestazione ed è giusto così.